A tu eppure sto pensando in una cosa? Dì mostra Ma fanno tre anni che siamo carcerati insieme nella stessa cellula E' vero I carcerati hanno dato tempo per darmi con mio frate no? Certo Me la posso migliorare una confidenza? Niente me Te la posso fare una domanda? Come no? Tu mi hai spiegato una cosa, mi ha avuto una difficoltà Tu hai fatto così tanto e tanta rapina Ma perchè sempre beggia, sempre beggia, sempre beggia? Gesù perchè i giovani mi ha boffo nei mazzalati Ah per una questione di coraggio diciamo, bella Però ora mi ha avuto a me una curiosità Eh? Non ho dormito tutta la notte Senti un po' ma tu a casa tenivo un fucino mitragliatore Tenivo un pistolo, tenivo un ribbotto Ma perchè c'è la tua socia con arca e frecce? Al tuo frate che l'era nei due a notte? E' che c'è a zinca? E non volevesse dei creatori, capito?